Ce le ricordiamo tutti, eppure oggi le veline degli agrumi, le finissime cartine che ricoprivano arance e limoni, sono sempre più difficili da trovare. Colorate, sofisticate e divertenti, come questa con braccio di ferro che al posto degli spinaci in mano regge la Sicilia. Ce ne sono tante e tutte diverse e da oggi fino al 14 luglio queste piccole opere d'arte sono in mostra al Palazzo Comunale di Cremona, una quarantina di pannelli che raccolgono solo una piccola parte della collezione privata di Aldo Vecchi. 68 anni di Colorno, vicino Parma, ha girato il mondo in cerca di questi preziosi incarti. Negli anni ne ha raccolti oltre 16.000 esemplari. Una passione molto curiosa, come è nata questa passione? È nata per la prima volta quando eravamo in viaggio di nozze in Spagna. Abbiamo trovato due locandine di un ristorante, di una discoteca e da quella volta lì siamo ripresi sul colore, sul disegno. Una passione proprio srenata, ecco direi. Abbiamo delle cartine che hanno già, sono dai 1870, insomma abbiamo già qualche cosa di storia. E lei quando va in giro li cerca? Sì, proprio ho l'occhio sempre sulla frutta, però adesso non se ne troppa perché adesso la frutta viene con il bollino. Non semplici veline di agrumi, ma sottili pagine di storia attraverso le quali è possibile leggere l'evoluzione grafica di disegni e dipinti. Una testimonianza della fantasia e della creatività degli italiani. Chi viene a vedere una mostra di questo genere che cosa deve aspettarsi? Si deve aspettare molte sorprese, inaspettate, di grande attrattività e di grande fascinazione. Vale a dire le metodologie con le quali questa cartografia è stata costruita nel tempo, nel giro di due secoli quasi. Partendo dalle decorazioni dei carretti siciliani che portavano la merce e le cassette ai porti, al contagio avvenuto fra carretti e quindi tutto il radicamento di questa sensibilità cromatica. Guttuso è di Bagheria, il centro dell'agrumicoltura siciliana e quindi oltre a Guttuso c'era tutta una serie di pittori e disegnatori i quali hanno portato poi questa sensibilità cromatica all'interno del confezionamento del cassette verso l'estero adattando la modalità pittorica e decorativa ai gusti del potenziale mercato sia americano, sia nord europeo, sia russo con le varie modificazioni avvenute nel tempo. La maggior parte delle veline arriva dalla Sicilia e non poteva essere altrimenti, ma molti incarti provengono dalla Florida, grande produttrice di agrumi, dalla Spagna e da Rodi. Oltre a queste si potranno ammirare cartine delle cassette della frutta e diverse locandine pubblicitarie, un tuffo nella storia del marketing e della nostra tradizione popolare.